Dopo 15 anni dal terremoto i familiari delle vittime del sisma sono costretti ancora una volta ad alzare la voce di fronte alle ultime sentenze e lo farà anche chi direttamente non è colpito. La sentenza è sciocca per i familiari di chi ha perso la vita in quel 6 aprile del 2009, si reiterano e continuano ad offendere la memoria di ciò che è stato. Poche parole inviate da Vincenzo Vittorini, in rappresentanza anche degli altri, che si è sempre battuto in questi anni per cercare giustizia e verità, in una nota alla stampa per invitare l'ennesima manifestazione. Dalla rabbia nel ricordo di ciò che realmente accadde, dalla vontade di rivendicare risposte, dalla consapevolezza che non resteremo in silenzio, scrivono, nasce la scelta di convocare la manifestazione. L'appuntamento è davanti al tribunale, non poteva essere altrimenti, i familiari sperano anche in una grande risposta della città. Si ritroveranno martedì 30 luglio alle 18 al parcheggio del Palazzo di Giustizia. La nota è fermata dal Comitato Familiari Vittime, progetto storie di giustizia ed arriva dopo le ultime notizie delle sentenze che oltre a non riconoscere il risarcimento d'anni ad alcune famiglie, hanno imposto anche il pagamento di ingenti spese legali. Alla base ci sarebbe una condotta incauta di alcuni studenti morti all'Aquila che in sostanza avrebbero dovuto uscire dalle abitazioni. L'Associazione Nazionale Magistrati nei giorni scorsi ha esplicitato la propria posizione parlando di ricostruzioni fantasiose in qualche modo della stampa perché alcuni passaggi riportati non corrisponderebbero al testo vero delle sentenze, però in città monta l'indignazione.